Di tutti i colori, Max Nardari è il regista. Un minuto per raccontare il suo film, Max. Allora, Di tutti i colori è una commedia internazionale ambientata nel mondo della moda. Un progetto interessante perché è stato prodotto da due produzioni italiane e due russe. È un film corale con tanti nomi importanti, da Giancarlo Giannini, Alessandro Borghi, Andrea Preti, Paolo Conticini, Nino Frassica e anche Tosca d'Aquino. Tra l'altro con Tosca in questi giorni stiamo facendo il festival di Sabaudia della commedia italiana. Quindi un film corale, si può dire così. Abbiamo anche creato delle collaborazioni poi. È un film corale molto divertente che è ricco, quindi per me è stata un'esperienza molto interessante perché girare a Mosca, nella Piazza Rossa, dove è molto difficile, insomma, con queste ambientazioni di lusso, di moda, e in più accontentare anche un po' il gusto russo. Frassica, bravo come sempre. Frassica ha una parte esilarante, qui fa uno stilista eccentrico, con la tuba, l'abbiamo proprio trasformato, ma lui è così, è proprio spontaneo in tutto. Chiara Di Coletti e Giulia Bianconi. Hanno visto il film? Chiara. Meraviglioso, Nino Frassica. Vladimiro, lo posso dire, lo stilista Vladimiro. Eh sì, questa è una commedia che richiama un po' l'americana rom-com, quindi piacevole e leggera. Max Nadari continua questo filone della commedia dopo la mia famiglia a soquadro, quindi a percorrere temi anche importanti come l'amore, però in chiave appunto leggera, con l'aiuto di questi grandi attori come Frassica. Giulia, Giulia Bianconi. Ho trovato poco incisivo, diciamo, il protagonista, Andrea Preti, forse c'era bisogno di un attore con un carisma maggiore, per una commedia come questa, leggera. Mi era piaciuta, dire il vero, di più l'idea del film precedente, di una famiglia a soquadro, rispetto a qui a quest'uomo che insomma così egoista e incentrato su se stesso e anche bugiardo, che a un certo punto per amore cambierà un po' il suo modo di essere. Insomma un film da vedere mi sembra di aver capito Max. Un film da vedere perché è divertente per tutti, è un film che abbiamo scritto, è stata una lunga travagliata scrittura tra l'Italia e la Russia, quindi insomma un film che in Russia è uscito in 470 sale, ci tengo a dirlo perché è stata un'emozione presentarlo in Russia, quindi è stata già una bella uscita russa, vediamo adesso in Italia come andrà e comunque è un'occasione, è stata importante per me anche a livello personale, profondo, ti fa cambiare per forza, un film del genere ti trasforma.